In questo video vado a presentare lo Xiaomi Redmi Note 10S, uno degli ultimi dispositivi di fascia medio-medio-bassa del marchio cinese Xiaomi, che si caratterizza per una buona dotazione hardware e per un prezzo comunque che si attesta sotto le 200€ per la variante 6, 64GB di memoria interna. Esistente la variante con 128GB di memoria interna che su Amazon costa attualmente intorno a fine luglio circa un prezzo comunque abbastanza ragionevole perché parliamo di poco più di 200€. La confezione di vendita è più o meno la stessa di tutti gli altri dispositivi di Xiaomi, quindi troviamo la classica scatolina bianca, il dispositivo che troviamo all'interno, all'interno lo stesso dispositivo è protetto da una sorta di bustina, troviamo poi in questa sorta di scatolina il pin per rimuovere il carrellino delle due nano-sim più l'espansione di memoria, troviamo poi una cover trasparente oltre che la manualistica del certificato di carezzia che è trasparente e zigrinata all'interno, il dispositivo calza piuttosto bene all'interno della stessa, è difficile da mettere e altrettanto difficile anche da rimuovere. Una volta però inserita come vediamo si riesce ad apprezzare molto bene la colorazione del nostro smartphone, in questo caso con questa colorazione azzura che è veramente molto accattivante, più chiara nella parte superiore, per contro nonostante sia comunque una cover slim che va a proteggere anche la parte anteriore del vetro perché è leggermente rialzata, per contro essendo trasparente ovviamente con il tempo tenderà a ingiallirsi. Sempre tornando nella confezione troviamo il classico cavo dati usb usb type c con questa bellissima colorazione rossa che troviamo sugli inserti delle due porte e poi il caricatore da muro ovviamente compresa europea e con porta d'ingresso usb come vediamo anche qui è posizionato l'involucro rosso, la linguetta rossa ed è un caricatore piuttosto grande e dalla potenza anche elevata perché parliamo di un 33 watt massimo, 3 watt 11 volt, quindi è garantita la ricarica rapida del dispositivo. Parlando del dispositivo abbiamo come dimensioni delle dimensioni non notevoli in quanto abbiamo una lunghezza di 160.46 per una larghezza di 74.5 per uno spessore di 8.29 mm nel punto più spesso che in corrispondenza della della basetta dove sono disposte le tre fotocamere e il flash led. Come vediamo non è completamente a filo, è poco però rialzata. Una volta che viene poggiato su di un ripiano tende un po' a traballare ma nemmeno più di tanto. Il peso di 178 grammi non si sente affatto in mano, si impugna piuttosto bene anche perché in particolare è diciamo non tagliente i bordi, sono inoltre caratterizzati dal fatto che tendono in pratica ad assottigliarsi e in più la presa è abbastanza solida. Come materiali troviamo plastica sia sul retro che sul frame laterale, che è una plastica comunque più dura, sembra quasi alluminio ed è in pratica lucida, mentre invece la parte sul retro non è perfettamente lucida, è quasi opaca e trattiene pochissimo l'impronta e questo è sicuramente un aspetto positivo del dispositivo. Altro aspetto positivo, sempre per quanto riguarda il design, è la parte dove sono disposte le fotocamere che mi piace molto, con questo bordo argentato su cui è situato il doppio flash led e poi come fratelli maggiori abbiamo la fotocamera principale con questo raccordo circolare argentato e poi sono presenti le altre tre fotocamere. Sempre quando riguarda la colorazione è molto bella perché ha un gradiente che passa dal blu scuro al celestino chiaro quasi bianco nella parte in alto ed è una colorazione che come dicevo poc'anzi trattiene poco le impronte. Nella parte in alto abbiamo il connettore per l'infrarosso per comandare tv o altri sistemi on the box, il secondo microfono per la soppressione dei rumori e poi c'è questa sorta di griglia che dovrebbe essere l'uscita per la parte della cassa in quanto in pratica il dispositivo sfrutta l'effetto stereo che fuoriesce sia dalla cassa inferiore che dall'auricolare, questa dovrebbe essere la zona d'uscita per quanto riguarda il suono quando viene utilizzato l'effetto stereo. Troviamo poi sul lato destro il bilancio del volume e il tasto di accensione che equivale anche allo sblocco del dispositivo tramite impronta digitale e come vediamo l'impronta digitale è piuttosto rapida e precisa. Il riconoscimento avviene 9 volte su 10, non è diciamo che ha un'animazione un po' lentina, però comunque lo riconosce 9 volte su 10. Nella parte in basso è situata la porta d'ingresso USB Type-C, la cassa dell'altoparlante, il microfono principale e poi c'è il jack classico per le cuffie mentre sul lato sinistro troviamo il carrellino per introdurre le due nano sim più l'espansione di memoria tramite micro SD. A livello di software troviamo in particolare nelle info del sistema la versione della MIUI stabile, la 12.5.8 che è l'ultima versione è stata aggiornata recentemente, in pratica riporta inoltre le patch di sicurezza di giugno. Quando ho acquistato il dispositivo infatti le patch di sicurezza erano aggiornate a maggio, l'ho acquistato all'inizio di luglio e quindi già ha raggiunto o comunque ha ricevuto le patch di sicurezza di giugno, quindi a livello di aggiornamenti più o meno ci siamo. Inoltre con questa versione sono state migliorate la stabilità del dispositivo e altri bug che in pratica si avevano sempre nel sistema. A parte questo abbiamo invece come hardware il Mediatek Helio G95, un processore che ha 12 nanometri quindi non è un processore molto parsimioso a livello di energia a due core che arrivano ad una frequenza massima di 2.05 GHz mentre la GPU è un'arm Mali G76 MP4 con una frequenza a 900 MHz la RAM in questo caso è di 6 GB LPDDR4 a doppio canale con una velocità di 1800 MHz mentre la ROM è da 64 GB per questa versione ed è UFS 2.2 anche se in teoria il Mediatek Helio dovrebbe riuscire a sfruttare al meglio fino a memorie UFS 2.1 comunque le memorie sono abbastanza rapide e abbastanza veloce come vedremo anche dopo per quanto riguarda invece l'usabilità e quindi come si tiene in mano in mano abbiamo detto che si tiene molto bene è piuttosto leggero e ha un baricentro ottimo quindi il peso non è concentrato né nella parte in basso né nella parte in alto mentre per quanto riguarda le cornici sono abbastanza simmetriche quelle laterali e quelle in alto il Mediatek Helio invece è leggermente più spesso ma non più di tanto e comunque ci sta visto il prezzo la fotocamera anteriore è situata sotto lo schermo nella zona centrale ha un punch grandicello non è di quelli più fini ne ho visti più fini su altri dispositivi però sempre sulla base del prezzo ci può stare sempre a livello di connettività abbiamo due nano sim più l'espansione di memoria il dispositivo non è 5G ma è solamente 4G ma comunque va in 4G plus e questa è comunque una nota positiva perché non tutti i dispositivi nemmeno di Xiaomi hanno la possibilità di aggregare bene le bande e di fare in modo che il telefono sfrutti il 4G plus il wifi invece è dual band a 5 GHz è abbastanza veloce, prende bene, non mi ha dato particolari in top l'LTE di categoria 12 il GPS sfrutta le reti satellitari di Galileo quindi anche quelli europei mentre per quanto riguarda invece il Bluetooth è 5.1 per quanto riguarda invece la certificazione Wild Wine per quanto riguarda la riproduzione dei video nei servizi streaming ad alta risoluzione diciamo che all'inizio riportava come certificazione L3 appena riuscito però dopo gli ultimi aggiornamenti è stato certificato e quindi la certificazione presente ora è L1 però in questo caso bisogna prendere in considerazione alcuni elementi ora nel caso in particolare di un video su YouTube in particolare viene sfruttata la massima qualità come possiamo vedere andando su avanzata riesce a sfruttare la massima qualità anche in HDR e questa è la stessa risoluzione che riesco a vedere per esempio con il Samsung S21 Plus ma nel caso invece di un video per esempio su Amazon Prime Video in questo caso invece non si sfrutta la massima qualità dello stesso infatti nel caso dello Xiaomi come vediamo andando qui in basso non compare la massima risoluzione HD quindi lo stesso video sul Samsung S21 che è certificato ovviamente compare la risoluzione massima HD mentre per quanto riguarda Netflix non ne sono sicuro ma anche in quel caso dovrebbe ovviamente vedersi in Full HD ma non alla massima risoluzione quindi è una certificazione comunque L1 ma non si riesce a sfruttare appieno la soluzione massima di riproduzione sempre per quanto riguarda le altre caratteristiche troviamo comunque il jack classico per le cuffie e questo è sicuramente un elemento positivo del dispositivo troviamo anche un buon feedback di digitazione della tastiera è un po' zanzaroso però diciamo è anche abbastanza forte e si sente abbastanza bene mentre per quanto riguarda invece le altre caratteristiche passiamo allo studio delle fotocamere prima di passare però allo studio delle fotocamere volevo mostrare qualche benchmark generale del dispositivo anche per vedere le caratteristiche sulla base delle caratteristiche hardware che possiede quali sono i valori dei benchmark che sono stati in particolare misurati andiamo quindi su una serie di benchmark e vediamo che a livello di GPU come a livello anche di CPU è abbastanza potente i valori misurati su PCMark e sugli altri testi benchmark sono abbastanza alti è buona la velocità di copiatura della memoria RAM così come la velocità di lettura e di scrittura della memoria interna segno quindi che le UFS 2.2 sono comunque in memoria abbastanza veloci e questo lo si dimostra anche dal fatto che sono come valori superiori comunque alle classiche UFS 2.1 anche il valore del single core e del multi core per quanto riguarda GIMBEC 5 sono abbastanza elevati mentre qui nel test del throttling test si vede come il processore ovvero l'Elio G95 che ha 12 nanometri non è un processore che tende diciamo ad avere un buon risparmio di energia in quanto va a riscaldarsi notevolmente dopo il test di 15 minuti vediamo che tende ad abbassare le prestazioni si riscalda notevolmente quindi le prestazioni di conseguenza calono anche di molto questo porta ad un'autonomia si elevata del dispositivo ma comunque non molto elevata rispetto ad altri dispositivi usciti più o meno nello stesso periodo di questo che è uscito più o meno a marzo del 2021 e che hanno comunque la caratteristica avendo dei processori più aggiornati di avere dei risparmi energetici maggiori comunque l'Elio G95 è un processore molto potente sia a livello di CPU che di GPU è molto potente e quindi riesce a sfruttare anche i giochi in 3D abbastanza bene per quanto riguarda invece il segnale del 4G come possiamo vedere in pratica riesce con la Vodafone ad agganciare tranquillamente il segnale 4G e con il test di 5G Mark abbiamo raggiunto dei valori elevati sia in download che in upload tranquillamente fuori casa mentre i valori in casa erano leggermente più bassi però come è possibile notare ha avuto solamente una piccola defianza in upload ma i valori in upload sono comunque risultati sempre abbastanza elevati così come quelli in download nessun problema nemmeno con il Wi-Fi aggancia bene il segnale del router anche ad una certa distanza lo riesce a mantenere bene e quindi non ho avuto particolari problemi se confrontato con dispositivi molto più costosi nessun problema con il GPS riesce ad agganciare facilmente i satelliti il fix avviene piuttosto rapidamente e riesce ad agganciare anche un numero cospicuo di satelliti questa invece è la durata della batteria che ultimamente sto effettuando con il programma o meglio con l'app PC Mark si attesta su 13 ore e 16 che non è è sì buono ma non è un valore ottimo sulla base delle caratteristiche che possiede altri telefoni con la stessa autonomia da 5000 mAh come questo Note 10S comunque hanno fatto meglio mentre questo è il valore di AnTuTu che anche in questo caso è più basso rispetto ad altri dispositivi che montano lo stesso processore ma hanno mostrato dei valori di AnTuTu superiore ai 350.000 tornando invece al reparto delle fotocamere abbiamo una fotocamera principale da 64 megapixel f1.8 omnivision ov64b che sfrutta il pixel binning quindi vengono effettuati normalmente 4 scatti da 16 megapixel riuniti per ottenere un unico scatto quindi i 4 pixel vengono riuniti in uno e si ottiene quindi uno scatto totale da 64 megapixel via software è impostato per effettuare gli scatti da 16 megapixel c'è comunque un'impostazione che ci garantisce o meglio ci consente di effettuare lo scatto a 64 megapixel poi c'è una seconda fotocamera grandangolare ultra grandangolare da 8 megapixel una Sony IMX 355 con un angolo da 115 gradi ed è un f2.2 buona o meglio è sufficiente ma comunque non aspettiamoci granché e poi ci sono le ultime due fotocamere da 2 megapixel che praticamente non servono a nulla una è una macro f2.4 l'altra per l'effetto di profondità f sempre f2.4 queste due alla fine ci sono o non ci sono possono anche essendo inutili ne possiamo anche fare almeno vengono messe di solito solamente per marketing le foto e gli scatti sono abbastanza buoni soprattutto se scattate di giorno mentre per quanto riguarda la notte comincia ad avere qualche piccola defiance quindi il rumore digitale tende ad aumentare e in certi casi anche notevolmente non mi ha impressionato molto a livello fotografico diciamo che se la batte con altri dispositivi dalle medesime caratteristiche dallo stesso prezzo però mi aspettavo qualcosa di più andiamo ad analizzare ora una serie di scatti che sono stati effettuati con la fotocamera di questo dispositivo di giorno gli scatti sono abbastanza buoni ha riprodotto una buona gamma cromatica non è molto definita lo scatto in questo caso da 16 megapixel non è il risultato molto definito se effettuiamo di zoom notevoli si vede come in particolare tende diciamo ad avere non poco rumore però in linea di massima comunque si è comportato abbastanza bene lo stesso scatto effettuato con la fotocamera ultra grandangolare buona buono come scatto buono anche diciamo la gamma cromatica ovviamente la definizione qui si abbassa notevolmente lo si evince dal fatto che già da un piccolo zoom ovviamente risulta subito sgranato questo è uno zoom 2x buono niente di che niente male ovviamente non ha uno zoom dedicato e quindi il massimo zoom a 10x è di tipo digitale questo è infatti lo scatto che è stato ottenuto con lo zoom digitale 10x come vediamo l'immagine è abbastanza buona ma comunque è molto pastellosa mentre questa è una foto scattata ad una pianta i colori e la gamma cromatica sono stati ben riprodotti HDR in tutte le foto era attivo in maniera automatica e in tutti i casi in cui era possibile ottenuto sempre l'intelligenza artificiale attivata questa è la stessa foto con l'effetto macro ovviamente essendo una 2 megapixel i risultati sono quelli che sono questa è la modalità ritratto sfruttando la fotocamera posteriore abbastanza buona scontornato bene ha messo a fuoco bene l'immagine del vaso con la pianta questo è un selfie all'aperto abbastanza buono anche se il viso senza nessun filtro attivato e nessuna modalità bellezza attivato mi sembra che non ha raccolto bene le imperfezioni questa è la modalità ritratto con l'effetto bokeh con la fotocamera anteriore ha però bruciato nella parte posteriore anche se ha scontornato bene attorno al viso questa è la foto scattata con la fotocamera alla massima risoluzione 64 megapixel effettuando quindi uno zoom più elevato si vede come grazie anche al numero maggiore di pixel la quantità dei dettagli raccolti è comunque più elevato rispetto allo scatto normale da 16 megapixel ma se confrontate sul display quella da 64 e quella da 16 non noto nessuna differenza particolare questa è la stessa foto o meglio questa è una foto scattata invece all'interno quindi con una condizione di luce artificiale lo scatto è abbastanza buono però in questo caso il marsupio che è completamente nero non viene riprodotto completamente il nero sembra più un nero grigio mentre invece questa è una foto scattata con la fotocamera anteriore in condizione di luce artificiale non mi è piaciuta perché anche in questo caso l'immagine mi sembra abbastanza pastellosa scatto effettuato con la fotocamera anteriore o posteriore in assenza di luce non raccoglie minimamente un piccolo quantitativo di luce la foto scattata con la fotocamera anteriore con il flash attivato ha effettuato in questo caso un buono scatto non ha bruciato l'immagine mentre la foto scattata con il flash della fotocamera quindi posteriore mi è piaciuta perché non ha bruciato per niente l'immagine è molto luminosa e i dettagli sono anche molto evidenti quindi in questo caso ottima la foto con flash questi invece sono i video prima dell'aggiornamento dell'ultimo aggiornamento in pratica mi ero lamentato nel confronto con il Realme 8 del fatto che questo Xiaomi Redmi Note 10S peccava nei video registrati sia in 4K che in 1080p per il fatto che andava particolarmente a rilento o meglio durante il video c'erano degli scatti che erano anche molto evidenti soprattutto nei video a 4K ma anche in quelli a 1080p dopo questo aggiornamento in parte si è risolto il problema ma ho notato che comunque nei video in 4K diciamo che questi scatti ogni tanto si ripresentano questo è comunque un video girato in 4K in particolare in questo caso gli scatti non sono più evidenti come nel caso dell'aggiornamento precedente la stabilità digitale in questo caso non è presente quindi è molto traballante il video lo stesso video girato a 1080p a 30fps con la stabilizzazione digitale attiva come vediamo in questo caso la mano ovviamente non era ferma come nel primo caso però è riuscito il software a stabilizzare molto meglio il video ma anche in questo caso qualche piccolo scattino è ancora presente quindi non è stato completamente risolto il problema ma in parte posso dire che diciamo lo ha sistemato lo ha Xiaomi con quest'ultimo aggiornamento la fotocamera anteriore invece da 13 megapixel e da una Omnivision OV13B10 e una F2.45 capaci di registrare i video in Full HD a 30fps mentre la fotocamera posteriore comunque registra i video fino in 4K a 30fps però scordiamoci la stabilizzazione digitale in quel caso per quanto riguarda invece il display è un ottimo AMOLED di fabbricazione Samsung da 6.43 pollici Full HD Plus 29 1080 x 2400 pixel dotato di HDR10 quindi compatibile con l'HDR10 con refresh rate a 60Hz e forse è questo l'unica pecca di questo dispositivo per quanto riguarda il display 409 ppi protetto da vetro Gorilla Glass 3 l'area coperta dal display pari a 83.5% la luminosità massima di picco secondo la casa i 1100 nits diciamo che si attesta sui 706 candela a metro quadro di livello medio fino ad un massimo di 779 candela a metro quadro non ho notato particolari problemi sotto la luce diretta del sole dove in quei casi aumenta di più il contrasto e la luminosità quindi diciamo in teoria si riesce a vedere abbastanza bene ma nelle giornate di pieno sole al mare comunque non ho diciamo avuto una perfetta visione dei caratteri per esempio delle pagine visitate sul browser ovviamente il contrasto infinito i neri sono da Super AMOLED quindi sono perfetti i neri i bianchi sono buoni e l'angolo di visione è abbastanza buono inoltre la visione del display è ottima sembra quasi che i caratteri siano stampati sullo stesso display il display inoltre è protetto da una pellicola che viene montata dal costruttore ed è abbontata anche abbastanza bene non ci sono diciamo infatti bolle da nessuna parte utilizzando per la cover non ho avuto il problema del rialzo perché in pratica diciamo non arriva all'estremità delle cornici ma finisce un po' prima ma il display comunque viene coperto completamente abbiamo detto che ha la giustificazione HDR10 quindi lì dove in pratica si ha la compatibilità come nel caso di YouTube i video come ho fatto vedere in precedenza si riescono a vedere alla massima risoluzione mentre per quanto riguarda invece l'audio andiamo ad alzare il volume al massimo per quanto riguarda l'audio è abbastanza alto anche di buona qualità ovviamente non è paragonabile a dispositivi molto più costosi ha un effetto stereo si sente abbastanza bene ovviamente la potenza che fuoriesce dalla cassa in basso è molto più elevata di quella della cassa in alto diciamo che in alto e in basso si sentono di più i bassi anche se sono comunque non molto vigorosi mentre nella parte della cassa auricolare in alto invece tendono ad ascendirsi più gli effetti degli altri mentre i bassi sono praticamente assenti a livello di suonerie si arriva a circa 88-89 decibel quindi anche abbastanza elevato e inoltre ha un diciamo anche un altro aspetto positivo e durante le chiamate non ho avuto nessun problema né di ricezione che è sempre stata ottima come la maggior parte dei dispositivi Xiaomi ma anche soprattutto per quanto riguarda la qualità delle chiamate che è risultata ottima il nostro interlocutore ci sente benissimo e noi sentiamo benissimo anche a lui un altro aspetto poi interessante del dispositivo che a mio avviso è interessante per chi utilizza il fatto che all'interno della cartella degli strumenti troviamo la radio FM che in molti dispositivi anche di fascia bassa di altri marchi oramai è stata diciamo tolta in più abbiamo come batteria interna 5000 mAh come abbiamo visto utilizzando il ricaricatore da 5V 6A si arriva in pratica a 33W si arriva a 33W e quindi la ricarica completa avviene in circa 1 ora e 15 minuti massimo in stand by si riesce ad arrivare tranquillamente a 130 ore 18 ore con riproduzione video e circa 30 ore per quanto riguarda le chiamate in 3G le temperature che vengono raggiunte sono abbastanza alte quando il dispositivo è sotto stress quindi nel caso di registrazione di video in 4K comunque o sotto giochi in 3D si arriva a circa 39 gradi il caricatore raggiunge una temperatura massima di 27 gradi e quando non è sotto sforzo comunque le temperature registrate sono piuttosto alte 29-30 gradi e a mio avviso sono comunque alte per un dispositivo che non viene utilizzato per quanto riguarda lo sblocco ovviamente oltre all'impronta digitale che come abbiamo visto è abbastanza rapida ma non velocissima nelle animazioni c'è lo sblocco in 2D tramite il riconoscimento del viso c'è a livello software il l'always-on display che però non ha l'always-on display che però non ha in pratica diciamo tante opzioni infatti una volta attivo l'unica cosa che possiamo avere è quella di essere mostrato per 10 secondi nel momento in cui viene toccato e di essere disattivato quando il risparmio è energetico attivo non c'è la possibilità di vederlo per tutto l'arco della giornata e non c'è la possibilità nemmeno di di averlo diciamo programmato sulla base di una fascia oraria ben specifica ovviamente però è possibile variare diciamo le caratteristiche dell'always-on display possiamo creare noi il tema dell'always-on display quindi a livello diciamo di grafica è altamente variabile possiamo scegliere quindi noi se utilizzare l'orologio analogico o in forma digitale scegliere lo sfondo eccetera per quanto riguarda invece il diciamo software abbiamo visto che è presente la MIUI stabile nella versione 12.5.8 che è l'ultima le applicazioni pre-installate di default sono abbastanza elevate oltre a quelle classiche di Google abbiamo anche in particolare diciamo negli strumenti numerose applicazioni tra cui la radio FM uno scanner per il riconoscimento dei testi e del codice QR abbiamo la bussala lo charme per spostare file con altri dispositivi che hanno lo stesso programma il telecomando e i servizi e feedback in particolare una volta acquistato avevo trovato anche all'interno del dispositivo il Mi Store e in pratica la Mi Community dopo un reset queste due diciamo applicazioni sono andate perse così come sono andati persi numerosi giochi erano molti giochi presenti nel telefono invece in questo caso ne ho ritrovati solamente due Lord Mobile e PUBG che ha una partnership con Xiaomi poi tra le varie app oltre a Netflix ritroviamo Amazon Facebook TikTok Bay LinkedIn Booking Com e Amazon Music però nella maggior parte dei casi sono comunque applicazioni che possono essere disinstallate senza problemi per quanto riguarda le applicazioni esterne la stessa cosa può essere fatta per i giochi come vediamo possiamo disinstallare comunque anche i giochi presenti e preinstallati quindi anche se bloatware è molto elevato però sono comunque disinstallabili ed è disinstallabile anche l'applicazione Mi Browser che è l'applicazione del browser tipica di Xiaomi Inoltre abbiamo in particolare tutte le applicazioni di Google molte di queste sono disinstallabili come possiamo vedere la maggior parte possiamo disinstallarle tranquillamente mentre altre potranno essere solamente in pratica disattivate ma non le possiamo in particolare nemmeno disinstallare oppure non ci dà nemmeno la possibilità di disattivarle ma le possiamo solamente forzare la chiusura o eliminare gli eventuali aggiornamenti però diciamo sono poche le applicazioni di Google dove non ci viene consentito nemmeno di disinstallare di disabilitarle ovviamente come tutti i dispositivi Xiaomi che montano la MIUI a livello di impostazioni la MIUI è molto molto completa e ricca di impostazioni per esempio abbiamo la possibilità di avere le app diciamo di sistema utilizzate da Xiaomi che vengono aggiornate costantemente abbiamo visto come l'aggiornamento globale del dispositivo avviene per quanto riguarda le piacce di sicurezza abbastanza velocemente ricca anche diciamo la connessione perché è presente come avevo detto prima anche l'NFC e ci consente di utilizzare Google Pay per effettuare i pagamenti inoltre in pratica ha questa anche impostazione di collegarlo ad un Chromebook un'impostazione che non ho visto in tutti gli altri telefoni l'Android Auto è presente e in pratica funziona anche piuttosto bene andando invece sull'OVS display abbiamo già visto anche le caratteristiche dell'OVS display per l'effetto di notifica c'è la possibilità di avere degli effetti specifici quando ci arrivano le notifiche abbiamo la possibilità di sollevare il dispositivo per attivarlo di toccare due volte lo schermo per attivarlo o disattivarlo abbiamo la possibilità di variare l'orrogio nel blocco schermo o di visualizzare l'animazione della ricarica durante quando il dispositivo è in pratica in ricarica o di avviare la fotocamera premendo due volte il volume giù inoltre sul display abbiamo la possibilità di avere la modalità chiara e ovviamente la modalità notte nella modalità notte la possiamo anche pianificare sulla base di una fascia d'aria specifica e inoltre abbiamo anche in particolare nella modalità scura abbiamo anche la possibilità di avere due funzioni specifiche che regolano lo sfondo in modalità scura o il testo e gli sfondi oltre a gestire la modalità scura singolarmente per le diverse app abbiamo la possibilità di avere l'antisfarfallio che serve in pratica che non è altro che l'attenazione DC che serve in pratica a ridurre lo sfarfallio abbiamo anche una modalità lettura ovviamente abbiamo la possibilità di variare la combinazione dei colori scegliendo un automatico che è quello impostato di default intenso che va a migliorare ancora di più di rendere ancora più caldi i colori o una modalità standard che è una modalità più laterale oltre di poter variare la temperatura del colore ovviamente il display che è un super AMOLED è ottimo perché è anche di fabbricazione Samsung abbiamo la possibilità inoltre di scegliere quali applicazioni debbano andare a modalità a schermo intero o meno e anche diciamo in modalità VR se ridurre lo sfarfallio o la sfocatura quindi a livello di impostazione anche per il display sono vaste e così come nei suoni abbiamo la possibilità di scegliere diversi tipi di suoni in particolare sia per le suonerie che per quanto riguarda in particolare le notifiche abbiamo l'assistente anche al suono abbiamo anche la possibilità di pianificare l'orario d'accensione del non disturbare e di avere delle funzioni specifiche per la modalità non disturbare nelle impostazioni aggiuntive o meglio negli effetti audio abbiamo la possibilità una volta inserito le cuffie di avere uno specifico equalizzatore di regolare l'audio diciamo degli auricolari mentre abbiamo nelle notifiche la possibilità di gestire le notifiche sulla notifica a comparsa i beige o in pratica quella a comparsa o nelle notifiche nella schermata di blocco scegliendo quale applicazione debbano ricevere scegliere quale applicazione devono ricevere le notifiche scegliere se l'area delle notifiche deve essere quella classica di android o quella di nuai che è un po' differente e anche scegliere l'effetto delle notifiche come abbiamo visto quindi in alcuni casi meno tendono diciamo a ripetersi possiamo scegliere anche lo stile del centro di controllo classico di android quindi in questo modo o comunque quello di miui che è nuovo e che è diciamo molto più simile a quello di android poi abbiamo la possibilità anche di scegliere scorrendo verso il basso che cosa vogliamo aprire abbiamo la possibilità anche di modificare la barra di stato mostrando le icone di notifica la velocità di connessione l'operatore quando il dispositivo è bloccato l'indicatore della batteria di nascondere o meno il notch con la barra nero e di decidere di nascondere o meno il notch con la barra per singola app poi abbiamo tra le altre cose la possibilità di gestire gli sfond dei temi grazie ad uno store dedicato dei temi password abbiamo la possibilità di gestire tutto ciò che è il riconoscimento facciale lo sblocco tramite impronta digitale le autorizzazioni eccetera in protezione privacy abbiamo diverse le possibilità di gestire tutti i permessi in batteria abbiamo un'ottima gestione della batteria che ci consente sia di attivare il risparmio energetico sia un super risparmio energetico che praticamente va a ridurre tutte le applicazioni trasforma quindi tutta la schermata in pratica in nero e ci dà la possibilità di aggiungere in pratica delle applicazioni al nostro dispositivo quindi in totale ne abbiamo tre specifiche più altre sei ci dice quante ore rimangono in questo caso e ovviamente con questa modalità andiamo a consumare meno batteria quindi nei casi in cui l'autonomia è molto bassa possiamo sfruttare questa tecnologia per poter comunque avere ancora un residuo di autonomia poi andando sempre nella gestione della batteria abbiamo la possibilità di ottimizzare quelle applicazioni che possono in pratica alcune diciamo elementi che possono aumentare il livello della batteria come diciamo disattivare il feedback lo schermo per le notifiche cioè una serie di servizi che vanno ad aumentare notevolmente ancora di più il livello della batteria abbiamo il grafico specifico dei vari consumi per tutte quante le app poi abbiamo una gestione specifica anche della batteria che ci dice quante volte è stato ricaricato oggi la temperatura che è stata raggiunta il come attuare il risparmio energetico per le singole applicazioni e anche pianificare l'accensione o lo spegnimento del dispositivo stesso in più abbiamo anche la possibilità di avere delle impostazioni per la batteria sulla schermata di blocco sul risparmio energetico un'altra serie di impostazioni come anche sul super risparmio energetico e quindi un livello energetico e comunque un software legato alla batteria molto vasto e molto importante poi abbiamo nelle funzionalità speciali il turbo videogioco per i giochi una serie di strumenti video specifici le finestre a comparsa che sono molto utili un secondo spazio che ci consente quindi di avere una seconda home per esempio di lavoro e una modalità light più semplice per le persone che sono poco avvezze al mondo android infine abbiamo in modo particolare tutto ciò che era legato alla privacy anche a livello di applicazioni quella meglio fatta a mio avviso è l'applicazione sicurezza che ci consente sia di avere un pulitore specifico per tutti i file diciamo residui o di cache avere una scansione della sicurezza che in pratica va a vedere se diciamo a livello di sicurezza il dispositivo è a posto poi c'è una sezione dedicata alla batteria all'utilizzo dei dati alle liste dei blocchi alla gestione delle app il turbo videogiochi pulizia profonda che va in pratica a cancellare anche tutto ciò che può riguardare le foto ma anche a livello di pulizia diciamo su whatsapp o su facebook senza andare ad installare delle applicazioni terze le app clonate per clonare alcune applicazioni come facebook o whatsapp un secondo spazio i test di rete o anche risolvere una serie di problemi che possono incappare nel telefono in definitiva il prezzo per questa variante è 664 di circa 200 euro il prezzo non è elevato le caratteristiche ci sono però ovviamente anche questo dispositivo ha qualche pecca non so se verrà risolta con gli aggiornamenti ma ad oggi a livello fotografico a livello di video comunque è una spanna o comunque è un po' al di sotto di altri dispositivi più o meno sullo stesso prezzo come il realme 8 e il realme 8 5G non è presente il 5G ma questo non è un problema peccato per il refresh rate solamente a 60 Hz con una batteria da 5000 mAh e con queste caratteristiche avrei preferito il 90 Hz ma in definitiva può essere un ottimo dispositivo da acquistare sotto le 200 euro a livello fotografico